bella a tutti ragazzi benvenuti su Twitch oggi siamo sull'apertura di questo canale con questo video faremo una prova a tempo chi guida le macchine chi fa il tempo migliore vince io sarò con questa Ferrari e dovrò battere il signore qua vicino a me che non ha mai provato il Drive Lab voglio avere un'informazione su questo canale siamo in due e vedrete molte sfide tra di noi per terminare il video adesso siamo a casa sua poi quando avrò anch'io magari un po' lontano la testa su quattro faremo tutto online e aspettate un video poi di fatto è un po' sicuro poi facciamo anche unboxing si il mostro e la recensione così per me è un po' sicuro 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 spero che questo video sia un po' sicuro no 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 il tuo amico d'idratore no 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 per attimo io unồi non gli piace l'albero calcolare mi domande l'albero è un errore la sua vita la sua vita la finale è appunto info aircompany come ha pensato solo che il problema di questo ragazzino non è lui è venuto a fare si che poi non è un istituto tecnico non so niente si però non è che sia facile è uno dei più difficili no poi vai ah beh e insomma dovrebbe fare due anni ma farli bene ma sto qua non fai compiti prendo quattro insomma se si guida un aereo sperate di non essere sull'aereo chiedete chi lo guida ora non possiamo farlo forse si sa fare anche qualche piccolo video che l'avete lo so ma il bello è che l'ha 70 quindi la scusa si si ma fai due da metà si 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 solo che adesso secondo me non è qua risposta si 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 io ho finito lascio il posto al mio compagno che stava per tirare giudice hai fatto come prima, 3.50 no, 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 obiettivo, 3.50 ahhh 3.42 ragazzi no, non penso che io sia una pippa no continua x x x x x x x x spero che non hai preso la mini o qualche cosa del genere se non hai contorido x 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 sono io sono la vita era bella giustica quindi davvero una cosa che avevano già lunghi avanti già da su fino alla play 2 e play 1 non andava bene play 1 aveva già fatto un grande passo con gli analogici e quindi se non sapete il primo livello di playstation è ancora uscito non aveva gli analogici poi hanno fatto uscire un livello di playstation 1 con gli analogici playstation 2 io ho avuto l'anno, lo sling dai che lo supero poi ho avuto la playstation 3 e quella è il cassone cassone, il primo cioè il primo che poi ho visto dai no beh diciamo che guarda che sembra che ci hai giocato tanto io questo non 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 oh si oh si io che l'ho superato dai che mandi ancora un vantaggio io sono un amante di mid for speed non avevo mai giocato a questo gioco e magari lo batte pure lo batte lo batte lo batte mamma ragazzi però dovete far vedere anche il numero di punti mi ha fatto 1600 eh ma no eh ragazzi sicuramente io sono vero pro vero pro perché lui fa tutto insomma così 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 bene allora posso dire questo gameplay è quasi finito quasi no è finito questo gameplay è finito io direi di stoppare la prima grazie per averci seguito bene ciao 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 ciao